Il dottor Marco Dell'Arte, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, lascia il commissariato di pubblica sicurezza della città di Acireale poiché è assegnato dal prossimo 14 ottobre a quello del comune di Lentini nella qualità di dirigente. Lo stesso era già stato assegnato a Acireale nel mese del gennaio del 2009 ed ha svolto sino ad oggi funzioni di vice dirigente del commissariato. Ha prevalentemente supervisionato l'attività operativa dell'ufficio che ha potuto così annoverare durante la sua permanenza importanti risultati istituzionali, fra i quali una maggiore risonanza nell'opinione pubblica è stata assunta dai 13 arresti in flagranza di reato di tifosi messinesi e decesi responsabili di aver causato violenti scontri fuori dallo stadio Tupparello alla fine di un incontro amichevole di calcio tra le due opposte società sportive. Tra gli altri interventi anche l'applicazione della limitazione di libertà a nove pluri pregiudicati responsabili di associazione a delinquere finalizzata ai furti di mezzi d'opera in cantiere edili ed al loro immediato riciclaggio in un mercato clandestino parallelo. E poi ancora l'arresto in flagranza di reato ed in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare di sette persone responsabili di associazione a delinquere finalizzata ai furti in appartamento e di una tentata a rapina ai danni di una gioelleria tramite l'ideazione e la creazione di un tunnel sottostante le strade del centro storico e infine i cinque arresti per detenzione e trasporto di materiale esplodente che per le sue modalità di fabbricazione e custodia era suscettibile di esprimere una micidiale potenzialità con effetti distruttivi. E' ovvio che viviamo un momento difficile per tutti, questo non si può nascondere, ci sono problemi all'ordine del giorno, però è anche vero che vi è molto sommerso e noi lavoriamo col sommerso. Talvolta il segreto istituzionale ci obbliga a non creare allarmismi senza ombra di dubbio. Comunque è una città che può sicuramente vivere serenamente rispetto a tante altre.